E' compresa, conclusa e chiusa in noi, qui chiusa in noi. E tutto il mondo è fermo mentre noi svaniamo, come vento al vento e al centro un cuore umano, che il tuo viso è il sole del mio, te pure rosa sul mio. Noi siamo il sole lassù, per noi siamo il sole lassù. E in me non c'è più un'ombra accanto a te. Mi tocchi come può toccarmi il sole, un sole che non sta fermo e si muove in te. Si muove in te, commove in te. E la sorpresa, amore mio, è compresa, conclusa e chiusa in noi. Amore mio, lontano, lontano. Nel cuore, l'impronte rosa del viso, tu. che dimenticare non potrò mai più. che dimenticare non potrò mai più. Si chiama, sentitola come due soli in cielo E questo è uno degli otto episodi all'interno di questo disco Senti Amedeo, da quanti anni tu fai questo lavoro? Scrivo canzoni da tanti, non li ho contati ma sono tanti Non ci hai mai fatto il conto? Credo molto, forse 20, ho cominciato giovanissimo Quattro dischi d'oro, sei dischi di platino Quando hai cominciato a fare questo difficile mestiere secondo me? Perché poi tu sei un tipo di artista abbastanza introverso L'abbiamo già detto prima Dal genere è difficile Con grande sincerità, pensavi poi avresti fatto così un cammino splendente Guarda, l'ha scritto, ho pubblicato una cosa dove raccontano tante di queste cose che mi riguardano E c'è una di Costanzo che mi sembra adeguata Perché lui dice, sostiene infatti che il primo a essere sorpreso di questo grande successo sono proprio io E credo che non abbia completamente torto Beh, questo è molto bello comunque Allora, so che tu farai, comincerai questa tournée dai teatri, rigorosamente dai teatri Sì, abbiamo già cominciato, adesso siamo a Milano tra pochi giorni, l'8 e il 9 a Milano Poi Torino Saremo Torino Il 21 a Roma E siamo a Roma qui il 21 Vabbè, ora ti vero a sentire Se viene mi fa piacere Vengo sicuramente Grazie davvero Grazie a te E adesso Don Antonio Mazzi A te